Ciao a tutti, sono Angoletto Carlo. Questa è una delle organizzazioni che si possono vedere a tutti i posti terremotati. Sono qui per invitarvi il 14 maggio a un torneo di beneficenza da Forza dell'Ordine e volontari del soccorso con lo scopo di reperire i più fondi possibili da mandare a questi comuni. Avremo un progetto con il Comune del Padre del Prodo, con il Comune del Padre del Prodo. Vogliamo invitarvi di cuore, vi mostriamo anche quello che è successo, perché forse qualcuno non lo capisce, qualcuno non si rende conto. Ovviamente noi saremo lì, giocheremo con la squadra di Drunken Piraten e vi aspettiamo il più numerosi possibili.